concerto del mattino salendo a punta regina oggi finalmente una bellissima giornata adesso prima col di ranzola a circa 2.100 metri poi ai 2.388 eccola lì di punta della regina salendo per la parte più ripida e scendendo dal versante opposto verso il gresso nai per poi rientrare al col dell'aranzola e qui siamo all'alpe finestra a poco più di 2.000 metri ed ecco qua le amiche e la musica dei campanacci